Come correggere un elaborato curricolare come ad esempio una tesi, una tesina, un paper. Io sono Daniele Vinci, tengo corsi di metodologia della ricerca presso la facoltà dove insegno e ho curato il manuale di metodologia generale che accompagna passo passo nella realizzazione di un elaborato curricolare. Chi fosse interessato trova maggiori informazioni qui sotto. La correzione del proprio elaborato non va sottovalutata, è una vera e propria fase del lavoro di ricerca. Vediamo questo argomento attraverso sette consigli. Il primo consiglio è facciamo dei controlli selettivi e mirati, cioè non cerchiamo di controllare tutto e tutto insieme. Ad esempio verifichiamo, non so che tutte le note si chiudano con il punto, oppure verifichiamo come abbiamo riportato il cognome dell'autore, o ancora verifichiamo i titoli, oppure l'uso dell'Ibi e dell'Ibidem. Questo tipo di controllo è facilitato dallo strumento Trova di Word. Il secondo consiglio è una regola aurea del correttore di bozze, ovvero l'ultimo controllo va fatto sul cartaceo. Quando stiamo per consegnare una parte dell'elaborato o tutto l'elaborato, stampiamolo e correggiamo sul cartaceo. Si vedrà come delle sviste importanti che c'erano sfuggite sullo schermo sono invece molto più facili da individuare sul cartaceo. Il terzo consiglio può sembrare marginale invece molto importante, ovvero quando correggiamo sul cartaceo non siamo troppo sbrigativi, perché poi passato del tempo non riusciremo a capire che cos'è che volevamo fare. Quindi esplicitiamo con chiarezza qual è la modifica che vogliamo apportare. Il prossimo consiglio è una strategia che ho imparato da un anziano professore, una volta lo vi di correggere le sue bozze usando un righello. Gliene chiesi la ragione e mi spiegò che era un modo efficace per individuare gli errori. Ho provato questa strategia e funziona, quindi si può usare un righello oppure un foglio piegato. E si vedrà come la correzione non viene affatto rallentata, ma noi diventiamo capaci di leggere con attenzione le singole righe, mantenendo la concentrazione ed evitando distrazioni. Il quinto consiglio è chiediamo ad un amico, ad un collega, di correggere il nostro testo. Non è sempre facile trovare qualcuno che sia disponibile, però è senz'altro utile qualcuno che possa valutare la chiarezza e ovviamente che riesca a vedere le sviste che sono a noi sfuggite, anche perché noi che abbiamo scritto il testo tendiamo a leggere non ciò che è scritto, ma ciò che abbiamo creduto di scrivere. Il sesto consiglio suggerisce di lasciare passare un po' di tempo prima di ricontrollare il nostro testo. In questo modo lo potremo valutare con maggiore distacco e obiettività. Ed eccoci all'ultimo consiglio, il settimo. Stiamo attenti alle correzioni dell'ultimo minuto, perché nella fretta possiamo non accorderci di errori di concordanza dal maschile al femminile, non accorderci che quel termine per esempio è già stato usato, oppure non vedere che è stata cambiata l'impaginazione. Non a caso i primi editori paragonavano le sviste alla testa dell'Hydra, questo mostro mitologico. Taglio una testa, elimino una svista e ne saltano fuori altre tre. Ricordo che è possibile iscriversi a questo canale per essere aggiornati sulle sue novità, è possibile lasciare un commento qui sotto ed è possibile contattarmi. Buona tesi a tutti!